ed eccoci qua eccoci qua sempre di notte sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam accesi c'è una frase molto famosa che fa parte del pacchetto base di ogni innamoramento anzi corteggiamento che si rispetti la frase è che diciamo si dice sempre all'altra persona è una vita che ti aspetto ok altre cose è anche stato il titolo di un libro di fabio volo se non sbaglio di 15 anni fa 20 anni fa adesso non mi ricordo questa è la frase che insomma quando si conosce una persona quando le cose stanno cominciando a essere serie si dice insomma magari poco prima di un ti amo è una vita che ti sto aspettando e finalmente si è arrivata diciamo a un must altre cose fa un po sorridere perché dopo sta frase si dice anche magari a 20 anni 25 viene reciclata per ogni storia d'amore cose del genere insomma adesso si recicla anche un ti amo si reciclano per sempre si rincicla sei la più bella persona che conosco e cose del genere salavi funziona così e una cosa che comunque posso dire io a 45 anni è che la frase che comunque mi rappresenta adesso non è tanto è una vita che ti aspetto la frase che mi rappresenta che vorrei dirvi è una vita che mi aspetto che è decisamente molto diversa perché sono sempre stato abituato ad aspettarmi qualcosa non abituato sempre stato portato ad aspettarmi qualcosa è una vita che mi aspetto che magari invece di mettermi di impegno a risolvere dei problemi o cose del genere aspetto che siano gli altri che mi portano magari un po di felicità magari un po di soluzioni magari mi danno una mano cosa del genere e mi sono reso conto di essere arrivato appunto a 45 anni e dire pensare che sbagliando che siano sempre gli altri che ti devono portare appunto la felicità che ti devono portare delle cose che ti devono per forza amare per forza odiare organizzarti la vita renderti felice e tutte queste cose qua è come se mi fossi perso non so neanche io come dire è come se tanto tempo fa mi fossi sdoppiato come ok avessimo andato la parte quella romantica quella sognatrice di me in cerca della formula perfetta per essere felice senza cercarla dentro di me ok ma pensando che deve essere per forza nelle mani di un'altra persona e mi sa che in tutti questi anni questa parte che ho mandato in esplorazione ok questa parte che ho mandato a cercare quello che non c'è a cercare quella scintilla a cercare quel puzzle mancante per rendermi non dico perfetto perché perfetto non lo sarò mai però per rendermi per rendere la mia vita bella per rendere la mia vita felice per rendere la mia vita unica come se questa parte avessi mandato se fosse persa ed allora come se avessi appunto fosse sdoppiato in due la parte mia più razionale è ferma ok ad aspettare e quella sognatrice è andata in cerca a correre dietro a tutto corre dietro a persone corre dietro a situazioni una volta che perdevo le persone in cerca di ricordi di emozioni di brividi di far tornare quelle persone come se non riuscissi mai a staccarmi del tutto ok è per questo che adesso mi sento dire appunto è una vita che che mi aspetto è una vita che sto aspettando che la parte diciamo sognatrice la parte non dico romantica la parte quella che potrebbe veramente rendermi felice quella parte mia che potrebbe rendermi felice che è che è persa dietro a tramonti dietro a strade che ripercorro ogni volta queste strade mi portano su nuovi brividi nuovi ricordi nuovi momenti anzi vecchi momenti è come se stessi aspettando che questa parte tornasse tornasse all'ovile tornasse da me per ripartire finalmente dopo tanto tanto tempo alla ricerca di ripeto mi ripeto ho detto tante volte termine felicità questo episodio però penso che la felicità sia proprio la svegliarmi felicità svegliarmi felice questo è lo scopo di tutto svegliarmi felice non importa quanto la giornata possa essere dura in ogni caso svegliarmi felice e contento di affrontarla invece ripeto per tanti troppi anni mi sono sempre aspettato neanche dire troppo o troppo poco dagli altri perché già il fatto che mi aspetto qualcosa senza cercarla dentro di me ok già il fatto sta cosa vuol dire che c'è qualcosa che non quadra ed è per questo che comunque ormai siamo quasi alla fine dell'anno diciamo che cercarmi cercare quella parte di me che è andata perduta che è andata dispersa diciamo che lo metto come un buon proposito per il 2022 anche se anche solo cominciare a cercarla secondo me sarebbe un passo in avanti decisamente e buonanotte grazie a tutti Grazie.